Chi non cerca trova il segreto qua, se non credi prova e succederà. Non ripari quel numero, lascia stare e se squilla al telefono non parlare. Solamente così capirà che l'amore si prende e si dà. Tu hai bisogno di lei e tu per ne a meno non puoi. Però, però sbagli tutto perché, se un altro non c'è, lei deve arrendersi a te. La Hoffa Grazie a tutti.